Prima ti chiedo, Savino, un commento perché i titoli di oggi, per esempio il Corriere della Sera, Israele avverte l'Iran, Teheran rischi di una crisi incontrollabile, la replica se attaccati vi colpiremo, nella strisce di Gaza ci sono 19 italiani, nel frattempo l'America rafforza la sua presenza militare, altri camion di aiuti a Gaza e uguale, siamo nella stessa, Repubblica e la stampa hanno lo stesso titolo identico, la minaccia dell'Iran, uno ha la minaccia dell'Iran, l'altro ha la minaccia di Teheran, ma più o meno, anzi il senso è esattamente lo stesso, Teheran avverte Israele, scrive Repubblica e gli Stati Uniti, la situazione può diventare incontrollabile, il Pentagono rafforza la presenza militare, continuano i negoziati, i catarini sugli ostaggi, Gaza allo stremo, nuovi aiuti, Casa Bianca a colloquio con gli alleati europei, nel frattempo il Papa chiama Biden, bisogna evitare l'escalation, cerchiamo una via di pace. Ecco, tu vedi una situazione in qualche modo risolvibile oppure no? Nel senso che io ho la netta sensazione che qua i due popoli, i due stati di cui parla oggi lo storico Benny Morris, tutte queste cose qua non siano proprio all'ordine del giorno, cioè zero, ma non se ne esce, se ne uscirà quando Israele dirà, vabbè abbiamo ucciso abbastanza membri di Hamas e adesso possiamo cercare una quadra. Allora, la prima cosa che vorrei dire, vorrei approfittare di questa occasione per togliermi un sassolino dalla scarpa. La settimana scorsa ascoltavo la trasmissione di Formigli, Piazza Pulita e tutto l'editoriale iniziale della trasmissione era dedicato al fatto che in questa guerra sta accadendo qualcosa di davvero assurdo. La cosa assurda che sta accadendo è che se tu muovi delle critiche ad Israele automaticamente vieni descritto come un seguace di Hamas, come un fiancheggiatore del terrorismo. Questa è una cosa assurda, si sorprendevano commentando, ma com'è possibile che l'informazione sia diventata così binaria, questa rinuncia alla complessità. Guardate, io ascoltavo il dibattito ed ero veramente basito perché pensavo a quella stessa trasmissione in altri momenti anche del nostro recente passato. Penso al conflitto tra Russia e Ucraina dove nel momento in cui muovevi qualsiasi critica automaticamente diventavi un putiniano, ma anche durante la crisi sanitaria ogni qualvolta muovevi qualsiasi tipo di critica rispetto alla gestione della parentesi emergenziale diventavi automaticamente un terrapiattista complottista novax. Quindi vorrei semplicemente, come dire, sottolineare e approfittare di questa circostanza per capire che certe porcate che sono state fatte in passato, ora che forse qualcuno se ne sta rendendo conto, oppure adesso che tocca a lui, diciamo, gli brucia un po' di più, è un'occasione buona per capire che certe schipezze è meglio non farle sempre. Piccola parentesi. Secondo elemento, direttore, che vorrei sottolineare. Io oggi leggevo dei numeri. Noi siamo quasi a 5.000 morti. 5.000 morti dall'inizio delle operazioni, di cui oltre 1.700 sono minori. E se noi consideriamo che il 40% della popolazione di Gaza ha meno di 12 anni, di questi 1.700, e che l'età media della popolazione di Gaza è 18 anni, mi sento abbastanza sereno nel poter dire che di questi 1.700 la stragrande maggioranza sono bambini. Ci sono chiese colpite, ci sono ospedali colpiti. Ora noi siamo qui a dibattere su chi ha fatto l'attacco all'ospedale Battista di Gaza City, però prima di quell'attentato c'erano già stati 3.000 morti. Adesso sono 5.000 morti, quindi è bene fare chiarezza su quell'episodio, ma a Gaza è in corso un genocidio, una mattanza, dinanzi agli occhi di tutta la comunità internazionale. Questo ovviamente non c'entra nulla con ipotesi di fiancheggiamento ad Hamas, perché quello che hanno fatto, siamo costretti a sottolinearlo perché se no il riflesso è automatico, quello che hanno fatto certi terroristi, dei civili israeliani, è semplicemente vomitevole e criminale. Quindi lo sottolineiamo ancora una volta, così non siamo fiancheggiatori di Hamas. Il rischio di aggravamento della situazione io francamente lo considero concreto, perché qui se intervengono Libano e soprattutto Iran significa un coinvolgimento di Cina e Russia. E siccome quel rincitrollito di Biden ha detto che questa crisi internazionale va messa a sistema con tutta una serie di altri fenomeni, ad esempio la crisi tra Russia e Ucraina, come se fossero la stessa cosa, è come se si stessero già creando due blocchi contrapposti, contrapposti militarmente. C'è da sudare freddo secondo me? Guarda, io non sono pessimista, sì sono pessimista in generale, perché penso che il pessimismo sia trattato un ottimo antidoto alle false speranze. Dopodiché però io sospetto fortemente che nell'Iran, ma soprattutto non la Cina e non la Russia vogliano impegnarsi in un conflitto. Il punto è che la Russia ha già il suo bel da fare in Ucraina, ha da gestire una serie di cose nei Balcani con la crisi della Serbia, ha da gestire altre faccende in Armenia, ha l'Africa di cui occuparsi, non ha molta voglia di imbarcarsi e non ha le forze militari proprio per imbarcarsi in un'altra guerra a sostegno dell'uno e dell'altro. La Cina rifugge l'impegno diretto, anche su Taiwan abbiamo visto che lì ogni tanto si scalda, poi si raffredda, nessuno vuole andare fino in fondo. L'Iran credo che sia ben consapevole del fatto che da solo non può sostenere una guerra contro Israele, quindi gli altri stati arabi sono abbastanza divisi fra di loro. Sono gli stessi Stati Uniti e io credo che stiano cercando una quadra che prenda dentro anche l'Ucraina, secondo me e credo che andranno in questa direzione. Troveranno una quadra che prenda dentro anche l'Ucraina, faranno un grande accordo fra i potenti e poi alla fine della fiera però in tutto questo, per questo che io poi anche prendo le distanze da Massa, non solo per un motivo come dire umanitario, morale, di dignità umana, ma anche per un motivo politico. Cioè alla fine di tutto questo se ne uscirà con due popoli e due stati, non credo proprio, se ne uscirà con qualche conquista per il popolo palestinese, non credo proprio, se non migliaia e migliaia di morti, se ne uscirà con un miglioramento della situazione e dei rapporti, ma assolutamente no. Quindi ancora una volta sarà gestita una crisi internazionale sulla pelle dei palestinesi, perché questa è la realtà, oltre che degli israeliani che sono morti, si gestirà una crisi internazionale sulla pelle di questa povera gente e questo permetterà alle grandi potenze di trovare un accordo di un exit strategy sull'Ucraina, un riassestamento dell'ordine globale in qualche maniera e alla fine gli unici a farne le spese saranno stati i poveracci che sono morti dal 7 ottobre a oggi, da una parte e dall'altra. Questo è quello che credo io.